Il nome Sofonia significa in ebraico Ia nasconde nel senso di protegge. È forse questo l'intento dell'opera del profeta Sofonia che pronuncia i suoi oracoli negli anni precedenti la grande riforma del re Giosia, dunque prima del 621. Il testo è di fatti pieno di collegamenti di riferimenti all'idolatria presente nel culto nel popolo di Israele. I primi versetti di questo libro non lasciano minimamente dubbio circa la volontà del profeta, che cerca in ogni modo di scuotere un popolo che sembra lontano dal Signore, sembra non voler accogliere ancora una volta le parole dei profeti. Tutto farò sparire dalla terra, distruggerò uomini e bestie, distruggerò gli uccelli del cielo e pesci del mare, farò inciampare il malvagio, eliminerò l'uomo dalla terra. E nei primi 13 versetti di questo libro troviamo ben 18 verbi che annunciano l'azione del Signore e sono per intero verbi che annunciano un'azione di distruzione da parte del Signore. Farò sparire, distruggerò, sterminerò, abbatterò, stenderò la mano, punirò, perlustrerò, farò giustizia, non abiteranno, non berranno. Il futuro che annunciano questi verbi si chiama giorno del Signore, giorno del giudizio, quello che poi nella storia letteraria, musicale, teologica, verrà chiamato di esire, il giorno dell'ira, il giorno del giudizio. Eccole le famosissime e fortissime parole del profeta Sofonia. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di sventura e d'angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme. L'immagine del diesire è nata con Sofonia, l'immagine della venuta del Signore che farà giustizia dei malvagi, di coloro che non hanno ascoltato la voce e i moniti del Signore e dei suoi messaggeri dei profeti. Ma chi sono i veri destinatari di questa parola? A me sembra che ci sia una frase straordinaria che esprima la rabbia del profeta. In quel giorno io farò giustizia di quegli uomini che riposando come vino sulla feccia pensano, il Signore non fa né bene né male. Ecco, con questa frase Sofonia rivela chi sono i veri nemici del profeta, chi sono i veri nemici della parola del Signore. Sono gli scettici, i cinici, sono gli increduli, quelli che non vanno contro il Signore, quelli che pensano che sia tutto inutile, che in fondo già si sa bene cosa è accaduto e quello che accadrà. Quelli che vedono la fede, la preghiera, il culto, la parola del profeta come qualcosa di inoffensivo, di inutile, di innocuo. Coloro che in qualche maniera schivano ogni parola. Nel secondo capitolo di Sofonia si capisce che questi avversari, coloro che pensano che il Signore non fa né male né bene, in realtà non sono un gruppo ben preciso, ma sono come infiltrati in tutto il paese, soprattutto in quelli che sono i capi del popolo, i capi civili, le autorità religiose, gli stessi sacerdoti. Ecco dunque il piano dell'opera, il primo capitolo che come sempre accade in ogni libro profetico, è un libro di minacce, un capitolo di minacce. Il secondo, che è quello in cui vengono indicati e vengono come condannati. Il terzo, il terzo momento, è quello in cui il profeta annuncia l'opera del Signore. Dopo la grande purificazione, dopo grande giudizio, Dio porterà a compimento la sua opera. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. E il terzo capitolo di Sofonia ci sorprende, sorprende ogni ascoltatore di questo libro. L'inizio è terribile, la minaccia è il giorno del Signore che incombe, ma dopo la grande purificazione, coloro che rimarranno il resto di Israele, altra bellissima immagine del profeta Sofonia, vivrà nella pace. E Dio porterà a compimento la propria opera, che non è mai un'opera di distruzione. Quello che ci vuole dire il profeta. E nello spazio di tre versetti contiamo, questa volta, ben dodici verbi, declinati al futuro da un sapore completamente diverso ai verbi che introducono l'oracolo di Sofonia. Israele gioirà, rinnoverà, esulterà, io raccoglierò, mi occuperò, soccorrerò, radunerò, li farò, vi guiderò, vi radunerò, vi darò, ristabilirò. Questi sono i verbi, questa è l'azione che Dio promette. Dunque in Sofonia, nello spazio di pochi capitoli, noi vediamo espresso in maniera, direi, essenziale è quello che è il processo, lo schema all'interno di ogni libro profetico. La denuncia, la minaccia, il giudizio e infine la purificazione e la salvezza per i credenti. È un libro in qualche maniera materno e paterno, un libro di minacce, è un libro che invoca a prepararsi alla salvezza ormai imminente, che è un giudizio, ma sarà tale solo per coloro che non vorranno accogliere la parola del profeta. Dunque è un libro da leggere affinché nessuno di noi cada nel cinismo e nel menefrighismo e si prepari al giudizio, all'incontro con il Signore. Buona lettura.